Le novità della raccolta differenziata a partire dal 1 gennaio 2018 sostanzialmente sono tre. La prima è la raccolta della carta che cambierà radicalmente giorno e passerà dal martedì al venerdì per quanto riguarda la zona A e il mercoledì per quanto riguarda la zona B. I contenitori possono rimanere quelli esistenti come possono essere ritirati quelli nuovi. Il verde dal 1 di marzo 2018 fino al 30 di novembre, periodo di raccolta, dovrà essere obbligatoriamente conferito tramite il bidone verde che dovrà essere richiesto in comune. Non verrà più raccolto il verde messo nei sacchetti. Terza novità è la raccolta degli ingombranti che non avverrà più il primo mercoledì del mese ma il primo venerdì di ogni mese. Sia la carta che il vegetale verranno raccolti tutte le settimane e non come notizie fuorvianti che stanno circolando. Entro la fine dell'anno verrà consegnato il nuovo calendario, un nuovo opuscolo come differenziare i rifiuti e una lettera accompagnatoria dove vengono spiegate le novità.